Una piccola disavventura, per fortuna senza conseguenze, per la cantante colombiana Shakira e il compagno Rarpiche, difensore del Barcellona. I domestici della loro casa a Esplugu dei Obregat, nei dintorni del capoluogo catalano, hanno infatti scoperto che la lussuosa residenza era stata svaliggiata dai ladri. Dalla casa di Piche e Shakira sono stati trafugati orologi di lusso appartenenti al calciatore e gioielli di proprietà della cantante, oltre a del denaro in contanti. A darne notizia è il paese. Secondo le prime ricostruzioni della polizia, è difficile che i ladri sapessero a chi appartiene la casa svaliggiata, ma molto probabilmente avevano notato che l'abitazione era vuota da giorni. Piche, infatti, è in ritiro con la nazionale spagnola in vista dei mondiali di Russia 2018, mentre Shakira si trova in tour, seguita dai genitori, che vivono in un edificio adiacente. La villa di Piche e Shakira si estende per 700 metri quadrati e da un enorme giardino, circondato da alte mura e siepi, di ben 1000 metri quadrati.